E niente ragazzi oggi girando un po' per il mio quartiere di Posillipod dove ho la famosa Villa Channel e girando un po' le voci per le lezioni e cose Sono andato da uno e ho visto chi ha vinto anche perché non è che mi importasse molto e ho visto chi ha vinto la melone, sono andato da un po' e ho visto chi ha vinto la melone sono andato da un po' e ho visto chi ha vinto la melone Ma scusate, adesso la domanda sorge spontanea Ma che cazzo l'ha votata a Samelone? Mi ha fatto sapere un po' o no?